Il piano Juncker non rilancerà la crescita e sarà un fiasco di 20 miliardi di spese pubbliche che non consentiranno di raccogliere 315 miliardi di capitali privati anche con la garanzia finziaria europea. Il trattato TISA, che spero non verrà mai siglato, mette in concorrenza e sistematicamente tutti i servizi pubblici e privati. La Commissione quindi mette a repentaglio il tema dei servizi pubblici di interesse generale. Il settore ferroviario, per esempio, in Francia la deriva con prezzi sempre più alti. La Commissione europea si ostina, si tratta sempre dello stesso filo rosso, smantellare i servizi pubblici trasferendoli al settore privato con gli aiuti degli Stati però e noi dobbiamo porci con fermezza.